Siamo presenti i produttori provenienti da più di 14 regioni italiane, sono produttori di piccoli presidi che quindi cercano di mantenere e soprattutto far sopravvivere la tradizione di una produzione o di una lavorazione, si parla comunque di agricoltura e di cibo, quest'anno avremo in particolare il Friuli che ha una buona presenza di produttori, sarà presente la Lombardia, la Toscana, la Valle d'Aosta, la Campania, la Calabria, le Marche eccetera e quindi vi invito a venire a conoscerli perché sono tutti produttori che hanno proprio voglia di raccontare il loro prodotto e di farlo conoscere perché non è un prodotto cosiddetto commerciale che si trova al supermercato ma senz'altro vale la pena conoscerlo per la sua particolarità e originalità, nonché per la sua particolare bontà. Vi aspettiamo tutti a San Giorgio Canavese l'11 e il 12 maggio, il mercato della terra e della biodiversità indigena, autoctoni in via di espansione. Grazie a tutti!